Ok, siamo con Marco Gramenzi, dopo essere stati al suo agriturismo Il Sapore della Luna, a posto davvero incantevole, finalmente siamo arrivati a vedere la sua incredibile macchina da corsa che è stato anche il motivo che poi ci ha portato a correre con la C3 Max in salita. Guardate che bello, io ho già i brividi, è una cosa micidiale. Questa è la 155 ITM che ha corso nel campionato 1996, campionato ITC. Quindi già il campionato del mondo era la macchina di Tarquini, è una macchina ufficiale di Tarquini, quindi è una macchina davvero incredibile, è una macchina che ha vinto anche alcune gare sia del mondiale che poi ha vinto tantissime gare con te. Sì, come ha vinto il campionato del 2003, ha vinto il campionato del 2003, del 2007, del 2009, del 2012 e del 2015. Insomma, più plurivincitrice, ma qual è l'emozione di guidare una macchina così bella? L'emozione inizia quando si sale sopra la macchina, no, a dire la verità inizia quando la si guarda. Poi bisogna un attimo distaccarsi dal valore intrinseco del mezzo, sia a livello storico che di collezionismo, perché altrimenti l'acceleratore sale, non si riesce più a spingere. Però a questo è complice per appunto dimenticare questo aspetto, il suo urlo, perché non si tratta di rombo, ma di un urlo eccitante, i suoi 12.000 giri. 12.000 in zona rossa di questa macchina. Sì, è un motore che potrebbe andare anche di più. I regolamenti dell'epoca come parametro avevano i 12.000 giri, tant'è vero che c'era una centralina che la FIA metteva e cambiava appunto per poter limitare per tutti i concorrenti il regime di giri a 12.000. Quindi a 12.000 giri quanti cavalli esprime questo motore? Intorno ai 500, questo è l'ultimo modello della 155, l'ITC, quindi un motore a 90 gradi, non a 65, che ha più coppia e più cavalli dei precedenti. Ok, quindi è peso? Peso intorno a 1.000-1.50 di peso di Fischer dell'epoca. Macchina a 4 rodriomotrici, aspirata, perché molti potrebbero confonderla con il precedente modello GTA, che aveva un motore turbo invece, questo è un motore aspirato e ha dalla sua un'efficienza nata dall'equilibrio telaistico, dall'equilibrio progettuale, che la rende veramente prestazionale contro anche mezzi ben più potenti e blasonati a livello appunto di peso e coppia e potenza. Qui stiamo vedendo appunto quello che bisogna fare per rottenderla. Siccome nulla è lasciata al caso in questo mezzo, le tolleranze tra accoppiamento cilindro e pistone sono così minime che occorre avere una dilatazione del blocco in alluminio dei cilindri per poter avere una situazione di non semi-grippaggio iniziale. Ah, ok. E quindi va portato a temperatura di oltre 50 gradi in quel monoblocco. Ma pensa a te. Che con la sua dilatazione compensa le tolleranze molto molto basse che ha questo motore. La macchina è molto bella poi perché utilizza sospensioni a doppio braccio come Formula 1 sostanzialmente, quindi anche al posteriore. Anche al posteriore, ammortizzatori sono della Penske, sono degli ammortizzatori ovviamente sofisticatissimi, hanno tutte le regolazioni possibili e immaginabili. Vediamo anche come è fatto il puntone che attua la billetta dell'ammortizzatore. Veramente bellissimo lo schema di questa sospensione. In mezzo ci passa l'arbero di trasmissione, per cui è veramente uno schema sofisticatissimo, molto bello anche l'impianto di raffreddamento dei freni è davvero eccezionale. Anche l'impianto frenante in questo caso utilizza dischi in acciaio. Sì, in acciaio della Brembo a 8 pompanti. Ok. E invece in gara potete utilizzare anche carbonio, era libero. No, questa è nata con i dischi in acciaio, non ho trovato nessun vantaggio nell'utilizzo. Anche perché il carbonio puro per la salita è sconsigliabile, perché ha bisogno di una temperatura elevata per poter funzionare. In salita chiaramente si parte la macchina fredda e quindi... Invece per quanto riguarda gli interni della vettura sono ovviamente totalmente personalizzati, rimane un po' l'impressione della plancia diciamo originale della 155 perché era per regolamento dovevi tenerla simile a quella del prodotto di serie, ma poi in realtà cambia tutto. Tutto a livello di pesi del pilota per bilanciare i pesi perché qui si ha la perfezione, si ha 50 e 50, quindi è stato pilota tutto traslato dietro, serbatoio, gruppo, trasmissione, cambio, differenziale, posteriore, tutto posteriore. Davvero incredibile, guardate che bello che è all'interno di questa vettura e soprattutto guardate dove è posizionato il pilota, quindi praticamente all'altezza del montante B e questo permette appunto alla vettura di essere estremamente efficace. Qua al centro c'è il ponte di comando con tutte le leve per azionare le varie mappature, tutte le varie ripartizioni eccetera eccetera, qua c'è un bel set di centraline che ormai sono oggetti del modernariato e probabilmente oggi rientrerebbe tutto in una centralina unica. Centralina sofisticatissima. Però per l'epoca erano comunque già ultra mega sofisticate. Sì, sì, ma qualche anno fa era una centralina usata in formula unica. Usavano ancora, esatto, adesso oggi ovviamente si sono evolute ma questa parte posteriore è in fibra di carbonio invece in questo caso, quindi abbiamo una parte, zona posteriore in fibra di carbonio dove abbiamo il serbatoio, andiamo ancora più dietro dove vediamo anche in questo caso l'alloggiamento delle sospensioni, anche in questo caso abbiamo un doppio braccio un doppio braccio con il puntone di reazione montato su una bielletta, quindi anche in questo caso veramente uno schema molto sofisticato, ammortizzatori anche in questo caso come anteriormente sono della Penschi hanno il serbatoio del gas montato superiormente, davvero questo telaio è meraviglioso, vale davvero la pena di guardarlo perché è una meraviglia unica. Anche in questo caso trazione posteriore, ovviamente essendo lo schema della vettura, trazione integrale è davvero molto bella. Qua è tutto vuoto ovviamente per questione di leggerezza e c'è lo schema diciamo di atraliccio che tiene in piedi la zona posteriore ma in realtà è tutto vuoto. Quello è il fondo, il fondo tutto in carbonio, quello è il fondo della vettura, questo è il cofano posteriore, si con la sua bella ala montata sul cofano, bellissima davvero, molto bene anche questa vettura aveva uno studio aerodinamico davvero eccezionale infatti le permetteva anche di essere estremamente perfumante. la senti quando vai anche in salita, più vai forte più tiene, quindi anche qui in questa salita di Ascoli la parte finale che si fa veramente forte e questo ti dà una bella mano perché ti permette di tenere giù. Infatti è una macchina che permette di tirare, di tenere tutto giù lungo l'asse di tutta la curva cambiano anche marcia addirittura perché non essendo turbo non ha quel colpo d'ariete, quel colpo forte che può dare l'inserimento della pressione del turbo, è un motore che ha una regolazione continua, direi assimilabile a un motore elettrico e quindi ha un tiro continuo, costante, sia nel 12.000, il cambio è perfettamente studiato per cui la marcia si inserisce in maniera anche automatica per riprendere il regime di coppia massima e quindi un motore che dà la sensazione di avere una costante lineare nell'espressione della potenza. Qui era così evoluta dove addirittura era possibile anche registrare un giro tipo di come doveva essere fatto e la macchina riproponeva le stesse cambiate in ogni curva. Ok, questo praticamente attiva il computer di bordo, attiva tutte le schermate della... bellissimo anche la strumentazione, era già molto moderna devo dire, era già la strumentazione digitale, non c'è niente di analogico, dashboard magneti Marelli. Quindi è la pressione del serbatoio d'azoto e qui è la pressione d'azoto che è nella testata perché le valvole hanno un richiamo pneumatico, non ci sono molle e quindi vanno gestite dall'azoto gas inerte, privo appunto di componente acquosa che permette a queste valvole... non hanno la molla ma... hanno il richiamo grazie alla pressione che c'è di aria dentro... bestiale... e questo gli permetteva appunto di arrivare a regimi così elevati... così elevati senza sfarfallamento di molla... bestiale... gli altri tasti cosa sono qui nella zona centrale? Allora, qui abbiamo la temperatura con la pressione olio e la temperatura dell'olio... si... e qui la temperatura dell'acqua... qui abbiamo la carica della batteria... ok... qui volevo ricordare che nulla è stato lasciato come avevo detto all'inizio al caso a tal punto che per sfruttare al massimo lo sfruttabile l'alternatore che pur se ha un assorbimento minimo però è sempre un assorbimento di energia, di potenza e su questa vettura sull'albero di trasmissione... non sull'albero o in pratica su una puleggia comandata dall'albero motore... questo perché nel momento più importante in cui si vuole la massima potenza che è una riaccelerazione dall'uscita di una curva lenta... l'alternatore non va a influire e quindi a essere un parassita in quell'attimo... bestiale... sulla forza che il motore può sprigionare... per quanto riguarda il tunnel centrale vediamo... vabbè scroll immagino che cambia le pagine... si le pagine... poi questo è il potenziometro dell'acceleratore... lavavetro tergi... poi la levetta centrale che va da 2 a 8 cosa fa? c'è questa qui cosa fa? mi dici un po' i tasti... tutti questi tasti... allora... qui ci sono... questo è l'on off della batteria... ok... emergenza... ok... l'accensione... perfetto... poi... e avevano anche il file della rota sgonfia... quindi un avvertimento si... della rota sgonfia... questo è un accessore sulle ventole... il lavavetro... il tergicristallo... si... che anche questo è da corsa... si... mono... si monospazzola con una velocità di... di passaggio elevatissima... si... poi... questo è un eccitatore delle pompe della benzina... si... questo è un... un cursore per il differenziale elettronico... si... perché avevano sperimentato addirittura il differenziale elettronico... ok... pazzesco... poi... qui abbiamo... siamo nel campo dell'ABS... all'epoca... questa macchina aveva una... un'ABS... così complesso... che... si diceva che la centralina era costata... addirittura... 400 milioni... addirittura... si... pazzesco... ed è programmabile... sia nell'intensità... che nella frequenza... Marco mi permette di sedermi a bordo della 155DTM... io ho già la pelle d'oca... perchè una macchina... ah si... se mi dai il piacere... ti... ti riprendo io... tieni tu... va bene... allora... guarda... intanto la giriamo... puoi fare pure così... ok... perfetto... grazie... basta che la tieni dritta... così... allora... io ho la pelle d'oca... si vede... si vede benissimo... dunque... per salire... bisogna avere uno slancio... intanto mi tiro sui coltelloni per bene... mamma mia... io questa macchina... me la ricordo... quando ero ragazzino... me la guardavo su Autosprint... e me la sognavo... avrei sempre voluto... fare questa cosa... finalmente la faccio... quindi... seguitemi... non ho spaccato niente... questa è già... complimenti... inserisci il... il volante... aspetta... mamma che bellezza... ah... come godo... bellissima... bellissima davvero... scusa... per accendere il quadro... giusto per avere l'emozione... di essere... quello on... in su... spingi un attimo... non accelerare più... questo? me la fai accendere? si... non ci credo... qua... si prova... accelera poco poco... accelero? sicuro? poco poco... se prie improve... assolutamente... się pos Menschen... cart yo... wak... oppure... che jeśli è trasferente, u atac grse... そ qua... si puòas farlo... uok... vi tutto utile... i lovei... i lovei... i lovei... i lovei... i lovei... I lovei... Marco grazie, emozione eccezionale per me, non ho parole, è veramente una macchina incredibile, grazie di questa grande emozione, stacchiamo il volante con grande cura e attenzione, cerchiamo di non rompere niente scendendo perché questa macchina è robusta ma è anche delicata allo stesso tempo, ci siamo, grazie, bellissimo, mi sono sporcato ma chi se ne frega, bravissimo, veramente d'applauso, è una cosa mamma mia da pelle d'oca, così abbiamo fatto vedere un po' tutto, direi da pelle d'oca grazie a Marco Gramenzi perché insomma davvero vedere una vettura così speciale in azione anche se sui cavalletti è davvero incredibile, perché la temperatura stava salendo intorno ai 97 gradi, è una macchina che resiste tranquillamente 100-105 però non avendo appunto aria da poter raffreddare il radiatore dobbiamo interrompere questa bellissima sinfonia. Pelle d'oca ragazzi, se volete vedere questa vettura basta che venite alla Coppa Paolino Todori, si correrà il 26 di giugno quest'anno, si corre il 26 di giugno, venite tutti e è qui a pochi minuti. Campionato europeo, quindi a pochi passi, vi aspettiamo e siamo contenti di farvela vedere dal video. Ciao!